Non fatemi distrarre dalle critiche, ricordate che il solo assaggio del successo che hanno molte persone è quando ne mordono un pezzo da voi. Gnam! Tavava av! Cominciamo! Facciamo partire l'orologino, 20-10, 20 lavoro, 10 pausa, si comincia, primo, i primi due che faremo, reverse crunch e bicycle, via, reverse, 20 secondi di reverse crunch, prima l'addome, poi il gluteo, 5, 1, pausa, gammine a terra, bicycle crunch, via, bicicletta, questi due esercizi, ripetiamo, tre volte, cuori andiamo qui dopo, 8 secondi, 3, 2, 1, pausa, di nuovo reverse, 3, 2, via, reverse crunch, su e su le gambe, concentrati sul movimento, 8 secondi, 3, 1, pausa, in modo bicycle, 2, 1, come on! Biciclettata di quelle foglie, eh, nuovo le gambe, avanti in 3, e con il gomito vado verso il ginocchio posto, 5, 2, 1, pausa, di nuovo reverse, reverse, poi si cambiano le trocitti, via, reverse, su e giù le gambe, 5, 2, 1, pausa, in modo bicycle, e poi cambiamo, 3, 1, via, 5, 1, pausa, in modo bicycle, e poi cambiamo, 3, 1, via, dai, dai, sta bicicletta, dai, sta bicicletta, dai, sta bicicletta, 1, 3, 1, pausa, ora abbiamo scissor orizzontale e crunch 90 che si alternano, via, scissor orizzontale, muovo le gambe, in orizzontale, destra e sinistra, dai che lo tenete, sì che lo tenete, 3, 1, pausa, crunch 90, e il grasso orizzontale, non basta, gambe, in orizzontale, se non basta, e si incrancia, via, crassa 90, dai, dai, costanti, nel movimento, sempre fluidi, 2, pausa, scissor, orizzontale, 2, 1, via, silenzio orizzontale, 3 giri di ognuno, 9 minuti totali di addome e dopo il bruglio, spalla, di nuovo crunch 90, 1, via, crunch 90, dai continua, 5 secondi, 1, falta, mi ha un altro, giusto, fatemi vedere, si, ha un altro silenzio, ha un altro silenzio orizzontale, via, l'addome dovreste cominciare un po' a sentirlo affaticato, un pochino dai, datemi la soddisfazione, un minimo affaticato dai, si temi di sì, pausa, crunch 90, ci siamo, via, ancora 12 secondi, continuate, 3, 1, pausa, si cambia gli esercizi, line leg raise, porto sul bacino, si alterna il tap, via, line leg, hop, 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 gambe al cielo, hop, gambe al cielo, verso l'infinito e oltre, dai, pausa, ora verso le camiglie, verso i talloni e oltre, 1, via, hit up, tacchi, tacchi, tocchiamoci i tacchi, 5, 2, 1, pausa, la mano mi brucia un po', un pochino, line leg, via, dai, dai, 10 secondi, solo 3, pausa, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo, via, hit up, ovunque, ieri, mi è arrivata una mail, dalla Roma Marathon, dicendo, all'alba, vincerò, fanno la Marathon di nuovo a settembre, pausa, all'alba, sto seriamente pensando di correrla, se non dico pace, tutti a Roma per la Marathon, la Marathon, line leg, dai, anche perché la Marathon di Roma l'ha già fatta, ed è veramente uno spettacolo, in più, all'alba, immaginate correre la Marathon di Roma, pausa, all'alba, c'è che spettacolo può essere, che spettacolo può essere, già la sto sognando, via, hit up, c'è solo un problema, che sono iscritto anche alla Marathon di Boston, che fortunatamente hanno confermato a ottobre, e alla Marathon di New York, che hanno confermato a settembre, a novembre, pausa, per cui sto valutando, perché a fare tre Marathon, si cambia gli esercizi, tre Marathon in tre mesi, va bene ad essere bombe, però, però, elastici, io oggi ne metto un pochino più tosto, perché quello azzurro che ho di solito è diventato molle, sei esercizi, 30 secondi ognuno, da plank in primo, estensione gamba dietro, va bene? due, uno, via, solo la gamba destra, la estendo dietro, da plank, ovviamente, prima, solo la gamba destra, nei primi 30, poi solo la gamba sinistra, otto secondi, dai, dai, tre, uno, cambio gamba, solo la sinistra, ovviamente, questa è efficace anche se è interastici, eh, o cavigliere, perché qualcuno ha detto, io le cavigliere, beh, va bene anche le cavigliere, 10 secondi, poi ci sdraiamo sul lato, e alziamo la gamba, uno, girati sul lato, partiamo dal destro, e alziamo la gamba, quindi cominciamo ad alziamo la sinistra, dopo, per comodità, vi darò le spalle, e alziamo la gamba destra, tre minuti di lavoro, 45 secondi di pausa, facciamo un po' di blocchi così, due, uno, cambia lato, alziamo la gamba destra, dopo, torno in plank, gamba sollevata su un faccio dei cerchietti, 12 secondi, dai, te lo tieni, adesso, da plank, cominciando alla sinistra, faccio dei cerchietti, con la gamba sollevata, è tosto, eh, ragazzi, questo? perché comunque devo sempre, tenere l'elastico in tensione, dai, 5 secondi, 2, 1, appoggio, cambio gamba, cerchietti con la gamba destra, miseria con l'elastico, quanto è tosto, 3 minuti così, miseria quanto è tosto, dai, 10 secondi, maledetto mecchio, ho preso l'elastico più duro, 5, 2, 1, pausa, ho già male al gluteo, come facciamo? ben, ben, sculaccia a corpo, secondo, facciamo un po' di ponte glutei, cammino così, ponte glutei, allora, ve li leggo, ponte glutei classico, con l'elastico, ponte glutei, apro, ponte glutei, mono destro, ponte glutei, mono sinistro, e andiamo intanto, via, ponte glutei, classico, mantengo tensione nell'elastico, non è aperto, non è apro, chiudo, solo su e giù, primo, l'elastico mi serve per tenere tensione, così è più faticoso, su e giù, non tocco mai terra, sfioro e basta, 2, 1, piedi uniti, giù, su, apro, chiudo, giù, su, apro, chiudo, dai, ora invece apro quando sono su, scopo, scopo, dai, dai, si continua, 5, poi ponte glutei, mono destro, con apertura, ora, mono, giù, su, apro, chiudo, giù, su, apro, chiudo, giù, giù, apro, chiudo, tutto con la destra, aprite bene, eh, 1, sinistra, giù, su, apro, chiudo, giù, su, apro, chiudo, vi assicuro che se anche non avete l'elastico, è efficace, potremmo comprarci anche delle camigliere, perché, verrete bene anche le camigliere, 2, 1, ginocchio al petto, compra, ho anche la musica che mi carica, va da ritmo, ma quanto son piettino, un bel po', dai, 8, poi glute bridge hold, aperto, adesso, glute bridge hold, aperto, mantengo le gambe aperte, glute bridge su, e sto fermo lì, dai che lo tieni, senti la chiappa, senti la chiappa, la senti, è dura, è di marmo, dai, 5, 1, pausa, ce lo facciamo lo spaghetto alle vongole, sì che ce lo facciamo lo spaghetto alle vongole, vongolina destra, come state? e, hop, dai, bongola destra, facciamo lo spaghetto, mezzo pranto, ginocchio sinistro appoggiato, dai, bongolina, hop, e apro, oggi è l'elastico più duro, maledetto me, te lo accuso, dai, bongolatis, 10, 5, e poi bongola a sinistra, 1, bongola a sinistra, cambiate in fretta, non voglio scuse, non voglio perdere il tempo, il prossimo è apertura, cioè alzata, della gamba, torniamo a fare lato destro però, da questa posizione gamba dritta, non apro l'alto, 1, torniamo al lato destro, alzo la gamba, qua il gluteo piange, piango anch'io, ragazzi piango, che dolore al gluteo, 8 secondi, dai, 3, 1, 1, cambio lato, e ridatemi la banda leggera, aiuto, dove fate bene, come fate bene, dai, 10 secondi, miseria si tira, miseria si tira, poi ci sdraiamo a terra, sempre, sempre il primo lato, sdraiate a terra, alzata frontale, omistica, 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 12 secondi, a rischio crampo, l'elastico e l'icchiale, 2, 1, cambio lato, dopo prendo quello azzurro io, ma chi me l'ha fatto fare, dai, 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 prendete l'uno, sono 12, ci siete, 2, 1, pausa, aiuto, la mia piappa, voglio l'elastico azzurro, domani non cammino, domani me la farà ciascolata, ma non riesco mica, ho già il gluteo in fiamme, questa serie mi ha ucciso, no, vabbè, ritengo quello, questo deve essere in piedi, dai, facciamo il duro, estensione gamba dietro, proviamoci, dai, non si muove, estensione gamba dietro, quindi così, via, estendo dietro la gamba, prima solo la destra, poi solo la sinistra, dai, 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 8 secondi, 8 secondi, dai che ce l'hai, 2, 1, aspendo e spendo dietro la sinistra, il prossimo, affondo laterale, destro, come sta il gluteo? vi saluta? ciao, piacere, sono un gluteo, come va? male, male, 2, 1, elastico al ginocchio, affondo laterale, destro, solo destro, 15, fuori affondo laterale, sinistro, miseria, sto elastico, anche la fondo lo rende complesso, 2, 1, cambio, affondo laterale sinistro, allora, se non è muscolare, questo circuito, non so cosa possa essere muscolare, dopo, affondo posteriore, scusate, affondo incrociato, affondo posteriore, 2, 1, affondo incrociato, su posto, su, incrociato, su posto, dai, dai, posto, sto facendo con il destro, poi vado a fare sinistro, cross, post, torno su, cross, post, torno su, 8, posto e cambia gamba, 2, 1, sinistra, cross, post, cross, post, e di nuovo cross, e posto, dai, eh, senza cadere, come faccio io, 5 secondi, 1, paura, ora cambia davvero, se non muoio, guardiamo, una serie squat, importanti, squat, squat usato, sumo squat, sumo squat usato, abductor squat, abductor paperino, praticamente, ciao belli, è come se fosse una squat challenge, 8 e si parte, ci siamo? Non mi sento, via, squat, 30 secondi, con l'elastico, io l'ho cambiato, se non muoio, 12 secondi, con il squat usato, è una squat challenge, praticamente, questa, sono 6 esercizi, belli da un uomo, ora, squat usato, dai, dopo allargiamo le gambe, sumo squat, adesso è squat usato, 10 secondi, dai, dai che la tenete, 5, poi sumo, dai, allargiamo le gambe, sumo squat, dai, su e giù, su e giù, su e giù, ancora 10, poi sumo squat, pulsato, ma, non è dubbio, il grudeo, sta lavorando, su e giù, su e giù, 2 1 abductor squat abduro e chiudo 30 secondi di questo si accusano dopo avermi fatti due di squat amicamente dai solo solo 10 lo tieni dai 3 1 vado giù abductor papenino dai dai tieni dura il collare è da 30 minuti circa che ci stiamo allenando non male 28 con precisione 3 secondi 1 pausa non sento più le gambe mandiamo sul cuore squat jump facciamo squat jump jumping jack a fondo anteriore destro a fondo anteriore sinistro ginocchio gomito ok dai che siamo qua in fondo il primo è piuttosto squat jump via se non riuscite a fare il jump fate solo squat va bene va bene comunque siamo già affaticati anche solo fare lo squat va bene dai eh 8 secondi 8 secondi dopo jumping jack adesso jumping jack 30 secondi 30 secondi ho sempre l'elastico non lo mollo mai dopo a fondo anteriore solo destro 5 1 a fondo anteriore destro ho ancora l'elastico e lo tengo dai dai 15 ho 3 secondi a fondo anteriore sinistro dai eh ragazzoni fino in fondo siamo a 30 minuti adesso di lavoro oggi sono 40 totali circa 1 ginocchio gomito solo destro ho sempre l'elastico ritmo voglio il ritmo come se fosse un battetto 10 poi cambio gamba 5 1 cambio gamba dai che tu hai il circuitone è finito è finito mi stanno andando anche un po' su guai 10 5 5 bang bang 8 minuti finali via l'elastico ne avete voglia e se anche non ne avete lo fate lo stesso allora questo è un 40 20 partiamo con rainbow destro ci mettiamo così in quadripedia rainbow destro dai eh un bel arcobaleno un bel arcobaleno sopra quindici secondi 8 2 1 pausa parami dominare rainbow avanti a sinistra scurezza un po' dai 5 secondi 2 1 2 prego sinistro 30 dai dai 8 minuti finali qua dai tutto trasformiamo trasformiamo il nostro culetto in marmo adesso è qui che fa la differenza è qui che viene fuori il cuore è qui che diventi un bombe dai 2 1 pausa altra laterale destra da quadrupedia questo è il cannolino che fa la pipì poi mi hanno detto che ieri sera me lo son perso mi hanno messo su blob mentre facevo gli addominami quello sui 3 si sui 3 blob via alzati la destra alzati la destra cucu cucu dai dai questo è Oliver dai che ci siamo dodici 5 2 1 Pausa Fisciatina sinistra 10 Ci siamo? Via 40-20 è comodo 20 secondi di pausa Per riprendersi Troppo semplice così Via Mi può bene Meno male che domenica C'è l'allenamento chiamato Costo killer Aiuto 12 secondi Dai dai 5 2 1 Pausa Rimanto in quadrupedia Alzata posteriore Gamma 90 gradi Partiamo con la testa Io non mi sento più le gambe Che gluteo Poi le gambe Il gluteo Credo che averli ancora Ma non mi sento 1 1 Via Gamma destra Dai che è il quinto Sono 8 gli esercizi Quindi può dire che sei in fondo Dai dai 20 secondi Vieni Vieni lì Vieni lì Vieni lì Vieni in fondo 10 Ancora 5 1 Pausa Alzata posteriore Sinistra 2 È lo stesso Marco l'altra gamba Solo 5 2 Mettiti da pronto Via 40 secondini così Dai dai 20 secondi 20 secondi Dai che lo tieni Solo 10 2 1 Sponta Indieni Sumo Wall Fit Posizione Sumo Squat Fermo lì Ci guardiamo negli occhi E chiacchieriamo Via Stiamo fermi qua In questa posizione Non ci muove nessuno Un po' più giù Rispetto a una sedia Il gluteo È contratto E stai lì Opponi Ti alla forza di gravità Che ti porterebbe giù Dai 18 secondi Ancora 15 Solo 10 5 5 2 1 Pausa Abbiamo l'ultimo È il pugile senza pugni Cos'è Cos'è il pugile senza pugni Schivo il colpo 5 1 Via Guarda Ti prendi Ti prendi E adesso che non mi prendi E non mi stanco E non mi stanco E sei Non mi stanco Non mi stanco Dai Dai, hop, solo 20, 3 è terminato, i cavi sono già passati 40 minuti, con in fretta ricominciamo, ricominciamo dall'inizio, con solo 5, 3, 1, bang, pausa, finito, 290 calorie, allora ho la frasina, ho la frasina per voi, oggi mi sono alzato che ho protestato, per cui voglio concludere la giornata così, un messaggio per tutti, ascoltate, fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque, sarai dannato se lo fai, sarai dannato se non lo fai, per cui fai solo quello che vuoi fare e ti fa stare bene, tanto va bene così, ciao belli!